Buono basso, c'è uno che mi sta seguendo D'accordo, ma è un lavoretto da pagare a parte Qualche volta io mi ceppo a riguardo Ogni tempo poi mi sento molto sempre Però oggi l'ho trovato giusto a tono Sono buono, sono buono Oggi che mi sento proprio bene Forse sono finito le mie pene Soffrire sempre non mi conviene Sono buono, sono buono Forse mi volevi più cattivo Più deciso e più aggressivo Oggi l'ho trovato giusto a tono Sono buono, sono buono Oggi mi sento proprio bene Forse sono finito le mie pene Soffrire sempre non mi conviene Sono buono, sono buono Forse mi volevi più cattivo Più deciso e più aggressivo Oggi ho trovato giusto a tono Sono buono, sono buono Mi piacciono le bibite gelate Mi piacciono le bibite ghiacciate I gelati e mi mangio solo un buono Sono buono, sono buono Mangio tutti i dolci alla pene Perché me li faceva la mia mamma I dolci per me sono un grande dolore Sono buono, sono buono Mangio dei gelati al cioccolato Anche se mia mamma sei morto Spero di tenere il suo barbano Occupatevi del camionista Questo è morto Forse mi volevi più cattivo Più deciso e più aggressivo Ma non sono trovato giusto a tono Sono buono, sono buono Mi piacciono le bibite gelate Mi piacciono le bibite geacciate Sono buono, sono buono Mi piacciono le bibite gelate Sono buono, sono buono E cazzo mille di te ghiacciati E c'è la tia niente Sono buono, sono buono E come già tutti tutti si valla per me Perchè me ricorda che gli amici E così per l'infimilante Salve qui si valla Ora adesso c'è il seno che te lo faccio Ora adesso c'è il seno che te lo faccio Sì, tu vuoi genuari Sì, tu vuoi genuari Sì, tu vuoi genuari Sì, tu vuoi genuari Grazie a tutti Sì, tu vuoi genuari Grazie a tutti Sì, tu sei meglio di me per quale genere di affare Dizze le cifre che chiede sicuramente deve portarsi Sì Ma quello che è certo è che l'unico modo di salvarti la vita è pedinare Basta, scoprire chi lo paga per uccidere chi La prova è che si è che gli amici Perchè hai cambiato i denti? Per il tuo motivo. Volevo sapere che era stata lucida. Perché non potessi farlo. E l'altro? Era l'unico modo di rivedere. Questo Bassett era uno dei cibi più richiesti da me. Gli altri ti saranno grati per avermi tolto di metto in concorso. Così, quando ho visto che Bassett era morto, ho pensato che, in seguito, avremmo prendo un altro per fare il lavoro che dovessi fare. E allora ti sei assoluta. L'avevo immaginato quando ho visto il cadavere di quelloscere tutta la vita. Poi ho cominciato a chiedere in tutti gli alzetti se c'era un signor Bassett e il gioco. Lo bello è che pure essendo Bassett, un corso a mezzo, 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 un corso a mezzo. E allora ti sei assolutamente che. Passate con 80 e che qualcuno vuole fare la pelea a mezzo. O... Ai. Qualche volta io mi cerco la rivolta. Ogni tanto proprio mi sento molto stanno. Però oggi ho trovato di sottono. Sono buono. Sono buono. Oggi mi sento proprio bene. Forse sono finito dei miei temi. Soffrire sempre non mi conviene. Gli sento proprio sono bambini. Sono buono. Ha guardato prima. Sono buono. Sono buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.